Un uomo è morto nella serata di giovedì intorno alle 21.45 travolto da un'auto mentre percorreva a piedi l'autostrada 30 Salerno-Caserta, tra Nocera Inferiore e Pagani. Il 42enne di nazionalità albanese avrebbe perso la vita sul colpo, ferito anche il conducente della vettura, condotto prima in ospedale a Sarno e ora ricoverato all'Umberto I di Nocera Inferiore. Sul logo dell'incidente sono intervenuti gli uomini della polizia stradale, gli addetti all'autostrada e i vigili del fuoco, effettuati i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto successo. Pare che il 42enne che aveva guanti e il volto coperto stesse fuggendo dai controlli dei carabinieri dopo aver tentato un colpo in un appartamento a San Valentino Torio, con un complice che è fuggito nelle campagne. Bloccata per ore l'autostrada, intanto cresce il malcontento dei cittadini dell'agro, nel mirino da settimane di bande di ladri che agiscono ormai anche in pieno giorno.